D'accordo, ora che la scuola è finita, sono il bagnino coach Steve. Per questo i miei capezzoli al salame sono così cotti. Si stanno arricciando ai bordi e sono pieni in seppi di olio. Bentornati, stransetti. Ciao ragazzi, sono il vostro supervisore, Harry. Il mio modo di parlare sembra sofisticato, ma ho messo i pantaloncini corti, i calzini neri e i sandali come voi. Come te la stai cavando in campese? In modo terribile, e tu? È un incubo continuo. Andrew? Mick, sono Seth Goldberg, la tua versione è il campeggio. Sì! Questo era il mio campeggio, tu hai rubato il mio Seth. Curri, scappa nel bosco, vai! Vai! Mi dispiace. Che diavolo sei? Sono Tito, la zanzara dell'ansia. L'ansia è quella sensazione interiore di essere circondati dal pericolo. Sto parlando di me! Qualcuno mi capisce? Sembra che tutti si stiano fidanzando. Sappi che leccherò la colazione dai tuoi molari. Spero che ti piaccia il guindalù di gamberetti surgelato. Jay e Lola si frequentano pure adesso. Tutti vivono la loro vita e stanno benissimo senza di te. Lola, oh, I'm doing it, I'm told. It's called a freak. They're doing it like they. A mouse. Let's show you the game. Now, freak! Sono gay. Mi manderai al campo di conversione o fingerai che sia morto di tumore al cervello o mi farai vedere due singole annazze. Now, freak! Stai impazzendo! Posso farti notare una cosina? Ti prego. Si sta sgretolando tutto intorno a te. Oh, freak! Popolo della Terra! Questo mondo finirà molto prima di quanto avevamo previsto. Quanto prima pensi che è in tenda? Oggi. Lo sapevo, cazzo! Quanto prima pensi che è in tenda?